Con il termine vertigine in genere si tende ad indicare una serie di problemi che non sempre hanno realmente a che fare con la vertigine. Noi possiamo avere la vertigine vera o possiamo avere per esempio un disequilibrio, cioè una difficoltà a mantenere il equilibrio. Come sapete tutti questo genere di problema nei bambini è molto più raro rispetto agli adulti. Dobbiamo fare qualche distingo. Il primo è che la vertigine vera è un sintomo in cui il paziente, bambino o adulto che sia, si trova praticamente fermo, percepisce di essere fermo, ma vede le cose intorno a sé che girano. In questo caso possiamo parlare di vertigine e in questo caso possiamo probabilmente parlare di una vertigine che parte dall'apparato vestibolare, quindi di competenza dell'autorino. In tutti gli altri casi in cui si parla invece di disequilibri, quindi di difficoltà a mantenere la stazione cosiddetta retta o difficoltà a camminare in linea retta senza avere problemi particolari, non si tratta di problemi che coinvolgono l'autorino, se non saltuariamente e in misura abbastanza marginale. Quando abbiamo un bambino con la vertigine che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo capire che tipo di vertigine è. Se vediamo che il bambino riferisce o lamenta di vedere le cose intorno a lui che girano o se vediamo che il bambino camminando per esempio cade su un lato, allora possiamo iniziare tra virgolette a preoccuparci, cioè a cercare di capire perché c'è questa situazione e il primo specialista sicuramente che va interpellato è l'autorino. In questo caso l'autorino dovrà prima di tutto eseguire una visita, quindi dovrà essere fatto un esame clinico con alcune manovre e alcune valutazioni. In questo caso si tratta di valutazioni ed esami o assolutamente non invasive o lievemente fastidiose ma che il bambino può tranquillamente fare. Nel momento in poi in cui noi riteniamo che ci possa essere un problema di tipo vestibolare, quindi una vertigine legata all'apparato vestibolare, allora possiamo proseguire eseguendo degli esami che sono volta per volta un po' più specifici. Quindi si potrà procedere per esempio ad un esame uditivo. Bisogna sempre eseguire un test della funzionalità uditiva, quindi un esame audiometrico. Bisogna molto spesso eseguire dei test vestibolari. Si tratta di test strumentali non fastidiosi che molto spesso si possono eseguire anche su bambini abbastanza piccoli. Su bambini molto piccoli è molto più difficile. Un ulteriore test diagnostico strumentale che ormai ha preso abbastanza piede e si tende a far eseguire a un paziente anche piccolo con la vertigine è la risonanza magnetica. Il termine risonanza magnetica erroneamente tende ad evocare qualcosa di preoccupante. In realtà io dico sempre una risposta negativa è pur sempre una risposta. Noi facciamo fare questo tipo di valutazione perché vogliamo escludere delle patologie per poterci poi dedicare e concentrare su patologie diverse. Nel momento in cui noi abbiamo escluso che ci siano problemi encefalici o ci siano problemi ai nervi che controllano l'equilibrio, noi possiamo tranquillamente dedicarci e concentrarci su una situazione che ci preoccuperà molto di meno. Quindi come si cura una vertigine in un bambino? La terapia della vertigine dipende moltissimo dal tipo di vertigine, quindi abbiamo tante terapie diverse che vanno ottimizzate ed orientate al tipo di vertigine che il bambino ha. Quindi prima sarà indispensabile eseguire una diagnosi corretta secondo tutti i modi di cui abbiamo parlato. Dopodiché potremmo instaurare una terapia che potrà essere farmacologica o anche una terapia riabilitativa. Oppure molto spesso non ci sarà bisogno di eseguire alcuna terapia. Una per esempio delle cause più frequenti di non tanto di vertigine vera ma di un disequilibrio in un bambino piccolo è che il bambino è spesso pieno di catarro. Ha magari un'ipertrofia adenoidea, un ingrossamento delle adenoidi ed è pieno di catarro. Il catarro si blocca a livello dei timpani come già abbiamo detto in un precedente film e questo catarro provoca una sensazione di difficoltà nel mantenere l'equilibrio perché ci si sente un po' come in barca. È quello che capita anche a noi grandi quando abbiamo un raffreddore importante, le orecchie si tappano, molto spesso si riempiono di catarro e abbiamo la sensazione di non essere perfettamente dritti. Ecco questo può capitare anche ad un bimbo piccolo che però continuerà come sempre a correre, ad agitarsi, a fare il bambino e potrebbe cadere. Anche in questo caso è giusto farlo controllare ma come vedete non sempre una vertigine corrisponde a un problema serio. Bisogna andarla a controllare e trovare la motivazione.